L'emergenza smog nelle città italiane è un problema sempre più pressante. Secondo il nuovo report di Lega Ambiente e Malari di Città, Cambio di Passo Cercasi, redatto e pubblicato nell'ambito della Clean Cities Company, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi, più stringenti, previsti per il 2030. Il report ha messo in evidenza i dati del 2022 nei capoluoghi di provincia, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili che del biossido di azoto. In sintesi, infatti, sono ben 29 città delle 95 monitorate che hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di PM10, con le centraline di Torino-Grassi che si piazza al primo posto con 98 giorni di sforamento, seguita tra le altre anche d'Asti con 79, tra le 10 peggiori anche la città di Alessandria. Sempre per il PM10 l'analisi delle medie annuali ha mostrato come nessuna di esse abbia superato il limite previsto dalla normativa vigente, ma ciò non è sufficiente per garantire la salute dei cittadini, in considerazione delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei limiti previsti dalla nuova direttiva europea. Tra le città che devono lavorare di più per ridurre la loro concentrazione e adeguarsi ai nuovi target, oltre a Torino, ci sono anche Alessandria e Genova. L'inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale, ma anche sanitario di grande importanza, dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente. In Europa è la prima causa di morte prematura dovuta a fattori ambientali e l'Italia regista un triste primato con più di 52.000 decessi annui. Torino conserva il triste record nazionale di superamenti dei limiti consentiti per le micropolveri ed Asti sale sul podio al terzo posto, è invece commentato Giorgio Prino, che è presidente di Lega Ambiente Piemonte-Valle d'Aosta. Questo non può essere il dato di partenza delle nostre analisi, ancora detto, dalle quali esce l'immagine di un Piemonte fortemente compromesso. L'inquinamento sembra ormai essere assunto come ineludibile, come una condizione non migliorabile. Eppure solo a Torino oltre 900 persone ogni anno perdono la vita in conseguenza proprio di una qualità dell'aria che è eufemistico definire pessima. Non si tratta di eventi episodici, ma di una situazione strutturale che dunque richiede coraggio politico e soluzioni strutturali.